ok allora benvenuti ci vediamo questa settimana con Spoke quindi abbiamo visto la settimana scorsa come fare per entrare in una stanza creare degli oggetti in una stanza e come divertirsi e fare un po' di caos nella stanza con gli oggetti una cosa volevo solo fermarmi un secondo sulla stanza quando voi siete nelle stanze e magari lo facciamo direttamente nel senso che se noi andiamo sul hubs di mozilla entriamo in una stanza volevo solo farvi vedere una cosa che non è molto chiara scusami se ti interrompo non vediamo il tuo schermo allora presenta ora il tuo schermo intero ditemi se vedete adesso si sta andando allora dicevo stavo cominciando a dire grazie per avermi fatto osservare quando entrate in una stanza quindi faccio questo non c'entra con Spoke ma volevo solo fare una una un riepilogo non tanto di tutto ma del concetto del rezzing cioè quando voi rezzate qualcosa quindi che sia anche una scritta cioè ciao mondo e vi ricordate che abbiamo imparato una volta scorsa che facendo con in questo modo viene un'iconcina questo ciao mondo qua tra l'altro mi confondo sempre tasto sinistro tasto destro questa scritta ciao mondo è temporanea questo vuol dire che nel momento in cui io esco dal mondo tutti gli oggetti che io creo vanno via spariscono e questo l'ha sperimentato lux con i suoi studenti che sperava di poter rintracciare dei dati dei suoi studenti creati nel in mozilla hubs e invece spariscono quando una persona se ne va via questo è un vantaggio perché le persone possono anche fare un pochino di di caos dentro ma tanto non appena escono si ripulisce tutto quindi se volete anche un vantaggio però c'è una cosa che forse non detto abbastanza e cioè premendo il lo spazio vedete che c'è da qualche parte il pin quando fate il pin adesso per farmi il pin mi chiede di essere registrato no? però avete capito cioè se fate il pin di un oggetto il pin rimane attaccato al mondo anche se uscite non so se avete mai provato questa esperienza però è molto importante proprio perché se ci sono delle cose importanti voi potete fare il pin tra l'altro se date i diritti alla stanza quindi vediamo un po' tra le caratteristiche della stanza c'è anche la possibilità proprio di dare i diritti di fare il pin alle persone quindi voi potreste dire ad esempio alle persone di fare gli oggetti e poi voi andate in giro a fare il pin degli oggetti cioè se non date il diritto di pin a tutti non so se è chiaro questa cosa che permette praticamente di controllare ok perfetto quindi non l'abbiamo detto molto chiaramente le volte scorse ma è interessante e tra l'altro è una cosa molto potente perché permette proprio di distinguere cosa è importante e cosa non lo è quindi le persone possono anche fare un sacco di disastri e voi potete cancellarli sia andando nell'elenco degli oggetti tra l'altro ecco una cosa interessante che è giusto dire è che il 60-70% delle cose che vedete adesso su Mozilla Hubs sono state create e inserite dentro questo mondo cioè dentro questo prodotto negli ultimi 12 mesi quindi vuol dire che sta facendo degli sviluppi notevoli ad esempio la storia che si potesse rezzare l'etichetta o che si potesse un'altra cosa non so se avete notato se voi andate su ciao mondo c'è la possibilità di fare open link e facendo open link quello che succede è che vi da un png che è esattamente l'immagine che volete e che potete salvare sul vostro computer quindi questo sia sul ciao mondo ma anche con la penna se voi andate con la penna e scrivete qualcosa quindi fate uno schema poi questa cosa a un certo punto andando poi sull'oggetto è possibile trasformare questo oggetto in un glb cioè salvarlo localmente adesso qui non me lo fa fare ancora ma comunque c'è questa possibilità mi sembra di averlo fatto vedere in uno dei video quindi adesso vedremo stasera spoke però io tante volte per inserire delle cose dentro spoke vado dentro un mio mondo una mia stanza creo delle immagini e delle scritte le salvo come glb e poi le posso inserire direttamente dentro il spoke come adesso vedremo ci sono ah si stavo dicendo quando fate qua il click vedete che qui ci sono tutti gli oggetti e la maggior parte degli oggetti c'è scritto reticulum.io ecco questo reticulum.io è un sito diciamo un indirizzo web che ha fatto Mozilla che permette di caricare delle immagini dei modelli o delle cose e quindi a tutti gli effetti è una specie di sketchfab no? il problema è che tutti gli oggetti caricati compaiono tutti con l'indicazione reticulum.io e non si riescono a riconoscere io ho visto andando sul sito di Mozilla Hubs che hanno già suggerito di fare in modo tale da poter cambiare il nome qui negli oggetti e che credo che sia un'ottima idea perché così si possono vedere gli oggetti senza vedere soltanto una successione di reticulum.io no? quindi è un il più nella barra della chat fai un po' vedere il più nella barra della chat il più ma forse questo c'era anche da altre parti comunque si c'è il più per caricare dei documenti e per caricare dei pdf o delle immagini eccetera comunque andiamo nell'essenza dell'incontro di stasera che era l'uso di Spoke allora l'uso di Spoke quindi torniamo al hoops mozilla.com tra l'altro quando entrate qua vedete che avete un po' di cose tra cui What's New che vi dice quali sono le novità che sono successe come vedete ci sono diverse cose alcune sono neutre altre sono un po' più interessante ma la cosa più interessante è la possibilità di accedere ai documenti che tra l'altro pur essendo scritte in inglese sono relativamente semplici da leggere ad esempio quando andiamo sempre sulle lezioni della volta scorsa ci sono dei video ma ci sono anche ad esempio questa bellissima finestra che spiega tutte le funzioni di hubs object browser member list media browser insomma tutte queste cose e sono spiegate abbastanza benino anche se sono in inglese non dovreste avere grossi problemi a seguirli e l'oggetto invece di stasera è proprio di poter costruire la propria stanza allora se voi prima di entrare in Spock volevo solo farvi notare che quando ho creato una room cioè una stanza la prima cosa che vi chiede dovrebbe chiedere qui in realtà mette una stanza di default cioè una scena di default ma è possibile fare choose scene adesso purtroppo qui non me lo fa vedere perché non sono loggato e però dovrei loggarmi quindi vediamo un po' di fare il log qui c'è questo sistema un pochino un pochino strano nel senso che per loggarsi vi manda un email e dovete poi andare praticamente a recuperarvela e a seguito di questa email vi vediamo un po' ops zero minuti fa andiamo a cliccare questo email e questo vi consente di fare il login in realtà ok quindi adesso sono collegato e quando si è collegati si riescono a fare molte più cose allora tornando alla scena quindi tipo create room quindi create room abbiamo visto che parte la scena con low poly questa qua qui possiamo cambiare di nome solo se siamo loggati quindi mettiamo salazar descrizione eccetera quello che volevo vi dicevo prima e ne approfitto per sottolinearlo adesso è che voi potete togliere il pin object alle persone agli allievi che sono dentro questo vi dà la possibilità di essere eventualmente voi come amministratori della stanza quindi voi tipicamente farete per esempio se non volete che la gente faccia tanto caos potete imporre che non possono creare delle camere se non volete che facciano emoji togliete gli emoji se non volete che svolazzino togliete l'offlying e se non volete che creino disegni magari ragazzi a fare disegno sceni in classe potete eventualmente togliere il drawings però diciamo fra tutto la cosa interessante se volete fare delle cose cooperative è la possibilità di dare create move objects se però voi fate una cosa in cui fate una lezione in cui siete voi che spiegate e non avete bisogno che gli allievi creino qualcosa togliete anche questo e quindi rendete il lag nella stanza molto più semplice quindi pin objects chiaro cosa fa andiamo un attimo qui si lol quando gli hai tolto tutto se ne vanno anche gli studenti però è possibile che tu possa a un certo punto dirgli giocate fate tutto quello che volete ma adesso nella prossima mezz'ora vi tolgo i diritti e quindi nella prossima mezz'ora non disturbate cioè non fate e poi vi ridò i diritti dopo insomma tutte queste cose sono tendenzialmente dinamiche tornando quindi a qua dicevo la cosa che mi interessava farvi vedere è il concetto di scena quindi la prima cosa da capire è cos'è una scena quindi le scene ce ne sono tante già fatte che sono queste di cui alcune sono interessanti questa qui outdoor dome è quella che abbiamo usato la volta scorsa tra l'altro se alcune di queste scene vi piacciono le potete anche copiarvele nella vostra nella vostra scena quella di default si chiama river island che è questa qui tranquillina qui vi fa vedere le featured però credo che sia possibile vederne anche di più ci sono delle altre le farm eccetera ma quello che vogliamo dire noi è questo di andare a fare le nostre scene quindi spoke è quello strumento che permette di creare delle scene fatte da voi dove mette queste scene è ancora per me un piccolo mistero perché secondo me le salva anche localmente nel vostro browser infatti quello che vedo da questo computer è leggermente diverso da quello che vedo con un altro computer quindi la cosa anche interessante di questo strumento che andiamo a vedere stasera è che non è necessariamente tutto online quindi viene fatto localmente a volte anche senza internet anche se ovviamente internet è sempre è sempre diciamo consigliabile perché permette di inserire delle cose allora cos'è una scena una scena è un diciamo un background diciamo che è un'immagine di sfondo a tre dimensioni che non è possibile modificare nella stanza una volta che è stata creata quindi la vostra preimpostazione della stanza quindi le scene sono ad esempio se voi volete farvi la vostra classe oppure un panorama una cattedrale una casa quello che volete la fate e poi le persone che entrano potranno aggiungere eventualmente decorare questa cosa che voi fate ma non potranno mai cancellare quello che è la scena quindi la scena diciamo che è il punto di partenza di ciò che volete che volete realizzare quindi è sicura è protetta non è modificabile potete modificarla voi adesso vi farò vedere un modo per modificarla in tempo reale comunque andiamo dentro create scene allora quando si va dentro create scene la prima cosa che si vede è che c'è questo diciamo pannello che indica i vostri progetti e qui noi possiamo crearne uno nuovo quindi facciamo un nuovo progetto e il progetto nuovo parte sempre da un progetto vuoto vediamo un po' che qualcuno mi scrive a desidera entrare a Ruprof dicevo il progetto nuovo è un po' fuorviante perché se voi fate new empty project in realtà quello che arriva è un progetto con già delle cose dentro non è proprio vuoto quindi il progetto empty è composto da almeno uno due tre quattro cinque elementi che sono nell'ordine la skybox la skybox sarebbe questa cosa che si vede da qualche parte si dovrebbe vedere il sole ecco vedete che c'è una specie di sole quindi questa specie di orizzonte blu che tra l'altro mi sembra che si possa controllare insomma quanto è luminoso se è buio notte tutte queste cose vi consiglio di fare delle prove voi ad esempio se io riduco posso praticamente renderlo più meno diverso lavorando con questi cursori quindi vi consiglio di giocarci un po' questa interfaccia assomiglia molto a quella di blender o forse anche di unity nel senso che abbiamo una finestra che viene chiamata viewport dove vedete l'effetto di ciò che fate poi cliccando col tasto sinistro potete ruotare e poi con la rotellina potete avvicinarvi o allontanarvi se invece cliccate col tasto destro entrate in una modalità diciamo di fly through che è quella di gioco quella di gioco per cui premendo w andate in avanti s tornate indietro a andate a sinistra e d andate a destra e che è una modalità io sto continuando a tenere premuto il tasto destro e quindi c'è la possibilità di navigare nel mio nella mia scena quindi questa è la scena che voi andrete a creare e dicevo all'inizio dentro c'è questo skybox che sarebbe il cielo abbiamo una direction light che indica il modo in cui la luce arriva e questa directional light indica più o meno come è messo il sole vedete che è inclinato e qui c'è una specie di pannello che vi fa vedere che il sole punta un po' obliquo se voi volete che questo oggetto che il sole punti a picco da sopra la vostra testa dovreste ruotarlo per ruotarlo dovete andare praticamente qua e poi potete un po' come si fa anche in second life cliccare su questi se me lo fa fare cliccandolo si dovrebbe ruotare solo che ruota di 90 gradi per volta perché qui c'è una impostazione che dice che ruota solo di 90 gradi se volete ruotare in maniera molto fine gli oggetti potete dire ruotare a intervalli di 5 gradi e allora potete vedete potete tranquillamente spostare non so se notate si vede un pochino che l'ombra cambia a seconda di a seconda di come ruota questo oggetto questa è una luce direzionale torniamo un po' qua vedremo nelle chat che è tipica se lasci il tasto destro non ti muovi più sì perché è il tasto destro che indica l'ingresso nella modalità diciamo di movimento di gioco il concetto di luce di skybox credo che non sia troppo difficile il concetto di luce direzionale vi torna cioè vi non capite cioè come funziona la luce direzionale mi faccio la domanda vedo sì sì ecco perché la luce direzionale c'è anche in unity quindi chi di voi eventualmente ha visto il mio corso di unity dovrebbe capire cos'è poi ci si è il concetto dello spawn point lo spawn point è una cosa che è un punto in cui quando le persone entrano nella stanza compaiono negli spawn point che voi avete predisposto se voi volete mettere più spawn point qui sotto cercate negli elementi spawn vedete che qui abbiamo spawn point quindi prendete l'elemento e lo potete metterlo in un punto qualunque quindi nel momento in cui avete messo lo spawn point lì avete due spawn point spawn vuol dire punti di nascita cioè le persone che arrivano avendo due spawn point e due punti di nascita alternativamente entreranno in un punto oppure nell'altro quindi qui abbiamo spawn point 1 spawn point 2 qui tra l'altro credo che si possa anche fare un rename per dire punto punto di nascita quindi potete cambiargli tranquillamente il 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 nome in modo tale da capire allora se avete una room può essere conveniente metterne diversi di punti di nascita per evitare che la gente quando arrivi non si accumuli tutti in un punto solo no che può essere un problema oppure magari volete fare nel senso che poi può essere sì esatto perché può essere fastidioso e alcune persone possono trovarlo anche una brutta esperienza andare in un punto in cui ci sono già altri 6-7 avatar che stanno nascendo quindi se voi pensate di avere tante persone che entrano è meglio metterne 4-5 in punti diversi tra l'altro la cosa interessante tra l'altro sembra che se premete il tasto centrale del mouse e lo muovete potete muovere l'ambiente quindi diventa interessante e poi potete muovervi anche con la rotellina del mouse quindi dovete un po' esercitarvi la cosa interessante è che vedete che il punto di partenza è importante perché vedete dove guarda anche l'avatar quindi se voi volete che l'avatar guardi verso quando viene spawnata guardi verso il centro dovete girare lo spawn point e lo girate semplicemente cliccando su questo che potete ottenere anche con R e poi lo girate facendo in modo tale che la vista insomma quello che vede l'avatar vada in quella direzione che è interessante volendo potete anche spostare le varie oggetti quindi anche gli spawn point mettendoli in posizioni diverse ed eventualmente anche in alto in basso quindi in questo caso praticamente se lo metteste così probabilmente l'avatar arriva e poi cade per terra quindi conviene probabilmente metterlo a livello del suolo gli spawn point e poi abbiamo terrain crater punto glb allora terrain crater punto glb e tutte queste montagnette che vedete queste montagnette vedete che sono sono fatte in probabilmente in blender e tra l'altro ecco facciamo una cosa floor plane questo togliamo la visibilità del floor plane no un'altra cosa comunque terrain crater punto glb è questo se togliete la visibilità al terrain crater vedete che sparisce quindi voi potete anche avere degli oggetti che potete avere invisibili questo serve più che altro per il progetto perché magari facendo dei progetti un pochino più delicati ci sono delle ambientazioni che vi possono dare fastidio allora potete provvisoriamente nasconderle questa griglia che vedete qua sotto invece è visibile in quanto è cliccata qua infatti se vedete se io clicco qua va via la griglia la griglia serve soltanto per allinearsi al pavimento quindi è un po' un aiuto per dire dove sarebbe il pavimento se però vi desse fastidio potete toglierla quindi sempre leggendo un po' questa strisciata all'inizio abbiamo questo che abbiamo visto che descrive di quanti gradi volete eventualmente ruotare le varie cose questa è la griglia questa è la griglia consente di verificare di quanto volete la griglia vedete che qui se la griglia la faccio a un metro o a dieci metri suppongo che sia all'altezza della griglia sto imparando anche io adesso quindi la fatte a livello di zero metri di altezza quindi dove la volete qui poi abbiamo lo snap mode che permette di quando muovete gli oggetti di allinearli quindi di attaccarli assieme quindi una cosa molto interessante vabbè questo soprassendiamo un momento invece le cose che probabilmente userete di più sono queste cioè quella del movimento quella della rotazione questa icona questo bottone che permette di spostare qualche cosa di ruotarlo e di ingrandirlo o diminuirlo mi scrivo qua ok credo di avere la visibilità di cosa scusa Giovanna vedo che mi ha scritto ah è qua c'è proprio un visibile comunque adesso facciamo una piccola prova nel senso che andiamo qua ci avviciniamo sulla pianura e andiamo magari a prendere un oggetto sketchfab quindi cerchiamo un modello e tra i modelli possiamo scegliere ad esempio un clock ovviamente sono tutte cose che funzionano bene in inglese in italiano un pochino di meno quindi se noi mettiamo orologio non troviamo niente ma se mettiamo clock troviamo veramente un po' di cosette quindi se noi prendiamo questa sveglia oppure questo questo orologio da muro basta che lo clicchiamo e lo mettiamo vedete che ci fa questa iconcina solita che è questo cosino che praticamente lo prende da internet e ce lo sposta ci impiega il suo tempo però in teoria una volta una volta che ha finito dovrebbe alla fine venire intanto che lui entra vediamo un po' se avete si ogni tanto è stranamente lento proviamo a vedere se c'è qualche cosa di un pochino più cerchiamo una cosa low poly vediamo se abbiamo qualcosa di leggero ad esempio low poly fox ecco questo qui ah vedete che nel frattempo è arrivato quindi vedete che cambia cioè il tempo di immissione di un oggetto dipende dal fatto che sia un low poly oppure no questa che è una volpe vedete che è arrivata subito spero che sia arrivata subito dove è? allora tasto destro doppia ah no in realtà era low poly fox cioè c'era ci sarà probabilmente la volpe ma è all'interno di un di un come si chiama di un paesaggio invece questo che è l'orologio che abbiamo visto prima quindi andiamo in modalità tasto destro ci avviciniamo clicchiamo sull'orologio e possiamo alzarlo un pochino e quindi abbiamo l'orologio insomma che abbiamo messo come vedete per inserire degli oggetti è ridicolmente facile salvo abituarsi a muoversi con questa impostazione che abbiamo imparato prima se l'oggetto importato risultasse troppo piccolo basta cliccarlo selezionarlo low poly fox e poi cliccando sulla scala o anche y vedete che facciamo y a questo punto in teoria basta cliccare al centro dell'oggetto e poi spostare il mouse e si può praticamente ingrandirlo o rimpicciolirlo adesso qui non è proprio perfetto però insomma è ragionevolmente interessante e vedete che riusciamo a vederci anche la nostra volpina diamo un po' diamo un po' se avete delle osservazioni sì ma trovo pesante allora per capire se è pesante o meno realmente basta vedere quello che c'è scritto qua vedete che qui sul a fianco di ogni oggetto c'è eventualmente un'immagine un triangolino allora questo triangolino quando compare vuol dire che secondo lui l'oggetto è pesante nella low polyfox invece non è comparso il messaggino e quindi va bene quindi wall clock hold decisamente è un po' pesante e qui ti dice che questo orologio occupa 141 mega di video ram che è tantino veramente tanto ed è comunque un file molto grosso e loro suggeriscono di avere i file gltf insomma questo è il formato che importa il più leggeri possibile quindi vi dà praticamente un voto agli oggetti in più se voi cliccate sull'oggetto e poi andate sotto c'è qua un pezzettino in fondo che dice gltinfo quando andate su gltinfo lui vi fa vedere tutto ciò da cui è composto quell'oggetto quindi in particolare in questo caso il peso è dovuto alle texture impiegate quindi chi ha creato questo oggetto gli ha messo qualcosa come vedete qua che ci sono 50 immagini e molte immagini pesano 278k 505 insomma è esagerato questa cosa quindi questo qui non è un granché bello e qui vi fa praticamente vedere i files di cui è composto le textures di cui è composto e le mesh quindi in questo caso il problema non è tanto vedete che le mesh sono abbastanza piccole perché hanno relativamente pochi vertici ma in questo caso il problema sono le texture quindi chi ha fatto questa cosa qua ha usato troppe texture invece se noi andiamo sul low poly fox che non compare questa cosa possiamo andare a vedere di quante texture è composto questo oggetto e e qui abbiamo i files di cui è composto vedete che qui dice che praticamente ci sono solo tre immagini immagini 0 1 2 che sono piccolette e quindi questa cosa qua è minuscola e quindi va molto bene quindi l'ideale quando fate le scene è possibilmente di inserire degli oggetti che siano che non facciano scattare il giallo qua c'è un domande su questo su questo modo di importare gli oggetti del sketchfab ok su sketchfab vi ricordate che abbiamo anche delle robe nostre quindi abbiamo i nostri boschetti boschetto e qui abbiamo i famosi boschetto pini questo qui di Dominic ad esempio che se lo prendiamo lo rezziamo adesso vediamo da quanto tempo impiega anche quanto è pesante per essere arrivato è arrivato anche questo boschetto ci sono un pochino di cose ma il fatto che non si vede è perché probabilmente ha dimensioni troppo piccole quindi per contro la cima vediamo un po' se riusciamo ad andare sulle caratteristiche di questo oggetto quindi se invece di 0,01 qui gli mettessimo 0.1 ecco vedete che già diventa un po' grande 0.5 diventa più grande se gli mettiamo 1 diventa grossino tanto quanto quindi questo è praticamente il il boschetto di scilipotti che abbiamo inserito nella scena in maniera abbastanza semplice magari il orologio a muro visto che abbiamo visto che è pesante lo cancelliamo e buon questa potrebbe già essere una scena vediamo un po' se mi domandate qualcosa i nostri boschetti peseranno una cifra beh dipende da quante allora se l'avete fatto con gli accorgimenti che avevo chiesto io a suo tempo sì sì io ho usato il tasto cancio tra l'altro qui mi sembra che si faccia ctrl z torna wall clock quindi ctrl z torna e se no vado qua o se no tasto destro e c'è anche il duplicate che è ctrl d e il group che è ctrl g sono tutte cose molto sofisticate questo cioè duplicate vuol dire che se io voglio avere due boschetti faccio ctrl d e vedete che mi ha duplicato l'oggetto chi di voi ha fatto alt space avrà visto che su alt space non c'è questa opzione di duplicare e in più c'è anche l'opzione di cliccare con shift per selezionare i due boschetti e ctrl g per creare un link set potremmo dire c'è una roba che cioè trattare praticamente più oggetti attaccati insieme nello stesso modo quindi noi andiamo work lock holder qua lo togliamo e così via quindi una volta che i due oggetti sono linkati in teoria posso cliccare sul gruppo e poi una volta che sono sul gruppo posso in teoria dovrei poter ingrandire ecco vedete che ingrandisco tutto il gruppo oppure posso ruotare tutto il gruppo che è una cosa interessante attorno al centro e tutte cose così tra l'altro ci sono anche la possibilità di cambiare il punto centrale ad esempio adesso facciamo perdere ma comunque ci sono delle piccole sofisticazioni locali però diciamo animazione di sketch fab sì l'animazione le supporta e questa è una cosa molto importante se conoscete una cosa ditemi qualche cosa che abbia un'animazione mi sembra che ci sia un fish vediamo un po' se c'è un fish con l'animazione non so qualcuno di questi che abbia animazione non mi ricordo forse si possono cercare poi clownfish chissà se questo clownfish per caso comunque sì l'animazione le supporta dove l'ho messo adesso questo fish ecco se non lo so potrei anche tentare di alzarlo allora se non vado errato anche qui c'è il concetto che la y praticamente è il ecco vedete questo qui è il clownfish che evidentemente è troppo piccolo facciamo uno ok allora adesso non so se l'animazione le faccia vedere ammesso che ce l'abbia questo oggetto comunque non so se state notando che posso costruire scene anche discretamente complesse senza particolare disastro tra l'altro vediamo un po' altre cose dwarf walk woman speriamo perigal animato vediamo un po' speriamo perigal animalo vediamo se riusciamo a trovare tenete conto che non è detto che vi faccia a prendere tutte le cose su sketchfab perigal animato by aquilone perfetto quindi lo prendiamo e lo mettiamo nella scena chissà dove l'avrà messo quindi alla ricerca del perigal animato mettiamogli una y posizione 10 ah facendo un doppio clic che ve la fa vedere lui viewpoint e là e là aspettate crater uh probabilmente l'ho messo troppo in alto e qui mi sono un po' perso comunque la il senso è di la ah si perché forse ah era troppo ampio era diventato troppo grosso quindi perigal animato mi sa che dobbiamo rimpicciolirlo facciamo 0.01 0.01 0.01 ok era troppo grosso quindi non si vedeva ok vediamo un po' che è quella magari facciamo 0.05 0.05 ah è andato a finire sotto vabbè comunque fate un po' i vostri esperimenti su queste cose qua e poi mi dite magari fate inizialmente vi consiglio di farlo con cose più semplici oltre a Sketchfab abbiamo vediamo un po' se riusciamo a terra in crater ecco se fate doppio clic sull'oggetto vi fa uno zoom in modo da dare da vederlo tutto oltre a Sketchfab vediamo un po' se è successo qualcosa qua non si muove qua ma in teoria se perché qua è il progetto quindi probabilmente non ve lo fa vedere in movimento per vederlo in movimento in teoria dovreste poter ecco se gli fate developer enable experimental features compare questo che è un preview scene che però forse sull'animazione non fa ancora quello che ci aspettavamo infatti mi aspettavo di vederlo in movimento quindi lo togliamo allora per provare questa scena la cosa migliore è di fare un publish quindi vediamo fare il publish nel senso che facciamo publish to hubs quindi lui prende un'immagine che prende copiandola da come state vedendo l'oggetto quindi se volete un'immagine diversa dovete andare praticamente inquadrare l'immagine che volete ad esempio questa e a questo punto facendo publish vedete che prende proprio con l'immagine gli date il nome quindi progetto spoke tutorial ad esempio poi fate save projects ecco qui succede una cosa molto interessante che vi permette di darvi la vostra attribuzione quindi buy edu3d salazar se volete no ma potete dirgli se consentite alle persone di riutilizzare se volete se volete bozilla promuova la tua scena e poi tutte le cose che avete inserito da sketchfab compariranno qua quindi dominic scilipoti compare come attribuzione e anche aquilone quindi è molto interessante da questo punto di vista perché vi permette di risolvere alla radice il problema del copyright senza evitare che vi dimentichiate di mettere le attribuzioni dopodiché fate save and publish e questa scena viene distribuita ecco deve fare l'upload della scena quindi oltretutto qui vi fa un'analisi della scena e vi dice se per caso ci sono dei punti dubbi allora fin tanto che sono verdi va tutto relativamente bene se c'è giallo vuol dire che vabbè c'è un po' di pesantezza ma è accettabile se c'è qualcosa di rosso invece vuol dire che è pesantino e sarebbe sconsigliato quindi una volta che vi fa vedere questo check fate publish della scena quindi lui fa l'upload sui server di di Mozilla a questo punto voi potete vedere la vostra scena dove vedere la vostra scena in realtà vuol dire creare una stanza usando quella scena quindi fate create room with this scene tra l'altro la scena come vedete è qua in cima 6k di p7nf quindi se voi per dire andate anche se non siete collegate uno vi ha passato questa scena andiamo in chrome vi passa quell'indirizzo e lo cliccate ecco vedete che chiunque una volta che ha l'indirizzo di quella scena vedete che fa vedere anche la cosa chiunque può creare una room cioè una stanza con quella scena in particolare noi la stavamo per vederla dobbiamo proprio creare una stanza quindi facciamo create room with this scene e siamo ecco vedete che lui carica gli oggetti e se abbiamo fatto tutto giusto ecco vedete abbiamo enter room enter on screen choose device le stesse solite cose e adesso abbiamo questa cosa qua allora il l'aquilone di cosa non lo vedo però vedete che ci posso girare e tra l'altro oltretutto la cosa interessante è che funzionano anche le collisioni quindi vedete che muovendosi tra l'altro possiamo teleportarsi e qui funziona il W questa era la volpina che avevamo messo prima la volpina che ha anche altre cosine che sono specie di foglie questo qui era il boschetto di scilipoti raddoppiato tra l'altro da qualche parte dovrebbe esserci anche l'aquilone non lo vedo ecco tra l'altro se volete se voleste venire anche voi qua dentro basta che vi dia l'indirizzo di questa stanza che è questa che magari ve la ve la inserisco normalmente le scene sono pubbliche però se voi volete fare una scena a vostra privata basta che non riveliate il codice quindi ad esempio questa è il link del del mondo mentre invece il link della scena abbiamo visto che era quest'altro qua 6k quest'altro qua quindi voi a seconda di come volete entrare entrate o con questo link o con l'altro quindi attenzione a non confondere allora lucia bartolotta dice a meno che non si dia il permesso di renderlo featured dunque feature vuol dire che non è detto che quando fate una cosa featured sia automaticamente pubblica nel senso che mettete c'è il milione di un codice per la scena no il codice per entrare nel mondo era quello era quello che avevo dato prima era il hub.link questo qua hub.link v9 ph e 8 infatti adesso se io uso questo codice che è quello che vi ho fatto vedere prima di fatto mi fa entrare in hubs metterli in lobby e quindi se voi avete usato quel codice dovreste poter entrare anche voi infatti vedo che ci siete tutti e oltretutto tolgo il microfono ok quindi adesso siamo quindi vedo che siete c'è Michelangelo che è entrato adesso chiaramente poi gli allineamenti di queste cose si vedono poi appunto entrandoci però la cosa bella è che potenzialmente si riesce a creare un mondo molto semplicemente cosa ne pensate e si è molto molto semplice oltretutto secondo me didatticamente interessante perché date la possibilità delle persone dopo la sbronza iniziale in cui i ragazzini si sono concentrati a distruggere tutto gli date la possibilità di crearsi ognuno a loro piccola stanza ad esempio a loro piccola scuola e potendo accedere attraverso il attraverso non solo Sketchfab ma c'è anche Google Poly che è un'altra libreria di oggetti si può fare di tutto oltretutto vi insegno prima di lasciarvi un modo per inserire degli oggetti e rinfrescare il template per tutti e così mi dite anche se funziona perché non l'ho ancora provato ad esempio se io vado su Google Poly e qui vado a prendere ad esempio Nature e qui voglio aggiungere ad esempio un Waterfall questa cascata la prendo e la ah no stava già una cosa vedete che c'è si sta rezzando la Waterfall che magari è anche ok è lì magari piccolina la facciamo un filo più grossa quindi a giudicare dal tempo probabilmente ecco è arrivata la Waterfall la facciamo 10 10 è detto questa la allineiamo a terra ok allora voi che siete entrati dentro il mondo questa Waterfall non la vedete ancora magari la mettiamo un pochino laterale ora se io volessi che modificare la scena basta che faccia di nuovo Publish to Hubs quindi lui prende salve il progetto ci impiegherà il suo tempo ora per esplorare tutto Spoke in realtà secondo me ci andrebbe un po' di tempo insomma nel senso che ci sono moltissime funzionalità di Spoke di cui non vi ho detto ad esempio tra le cose più interessanti c'è anche la possibilità tra le cose molto interessanti c'è la possibilità di inserire anche delle foto 360 gradi o anche addirittura dei video 360 gradi e della musica anche direzionale quindi potete mettere musica cioè degli oggetti che fanno musica in punti opportuni quindi ci possono creare veramente degli ambienti complessissimi io non sono neanche riuscito a a fare più di tanto no? ma torniamo un attimo qua vediamo un po' se ce l'ha rezzato ok save and publish allora io adesso faccio save and publish quindi lui prende la scena e la pubblica effettivamente l'exporting della scena o l'ho già fatto prima non mi ricordo magari l'ho fatto due volte exporting assassin ok diamogli il tempino comunque no l'idea adesso magari ci impiega troppo comunque l'idea è che quando è esportato la scena per riuscire ad aggiornare la scena basta che abbiate l'indirizzo della scena e poi fate semplicemente un refresh quando siete dentro quindi da qua andiamo un po' dove ero qui abbiamo la scena condivisa e qui c'è la possibilità dove è il mouse qua di cambiare la scena e voi in realtà andate su my scenes adesso non me lo fa vedere comunque nel video che ho fatto per questa lezione si dovrebbe vedere praticamente compaiono le vostre scene e a quel punto lì potete cambiare la scena e dovrebbe essere visibile a tutti se non so perché ci impieghi veramente tutto questo tempo magari il codice non entri non ho capito quello ah il codice dal visore ma non c'è bisogno di dare il codice basta entrare con quel link che avevo dato prima e si entra senza codice praticamente il questo link vgo.link v9 pht e 8 è quello che serve per entrare non mi è chiaro perché intanto lo vedo che state ecco e spero proprio che permettano di di evitare di avere tutti questi reticulum punto eccetera speravo di riuscire a farvi vedere il cambio di scena ma ah qui abbiamo siamo entrati non ci riesco vabbè comunque direi che per l'ora dovremmo esserci magari vedo che tra l'altro siete già riusciti a farvi degli avatar discreti hello state lavorando e facendo tutte le cose qui che chiedo anche a Michelangelo che aveva usato anche lui spoke queste poche cose le aveva già viste probabilmente niente spotting sì non ha funzionato facciamo un cancel se ce lo fa ah vedi che si è facciamo un refresh no si è proprio bloccato quindi qualche bacchetto c'è ok 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 ma dunque per entrare qualcuno chiede Maria Sgro come mai non si è dovuta loggare non devi necessariamente loggare per entrare in Mozilla Hubs ripeto la protezione su queste stanze è più legata se ti ha riconosciuto vuol dire che probabilmente eri già loggato da prima se sei soprattutto su Mozilla allora ti ha loggato implicitamente Sal, scusa posso chiederti una cosa? sono Maria si ascolta, quindi la logica è questa, cioè ogni scena in ogni room o in una room si possono inserire più scene? no, allora la scena ogni room c'è sempre solo una scena di partenza una scena ok, quindi diciamo che non c'è la possibilità e poi come si fa a passare da una room all'altra eventualmente quindi da una scena all'altra? ci sono ci sono due sistemi di cui uno c'è proprio un oggetto che si chiama link dentro quindi se voi andate sotto Mozilla vediamo un po' se me lo fa entrare solo che adesso si è un po' bloccato ecco aspetta facciamo così ah no se schiudo questo se ne va quindi aspetta chiudiamo un pochino di allora questo qui vediamo un po' se facciamo editing spoke se me lo fa fare mi sa che si è un po' si è un po' dunque ops mozilla.com ok mi ha sono segnato dentro spoke facciamo un get started project andiamo ecco questo qui è il progetto spoke tutorial quindi adesso lo sto ricaricando vediamo un po' se me lo carica ok allora ci abbiamo il nostro progetto noi possiamo ehm ehm avere ci sono tantissime cose di cui pochissime ve lo fate vedere ma c'è un link questo se voi prendete il link e lo mettete nella scena vedete vedete che c'è proprio il simbolo della catenina e poi qui c'è la urla qui deve andare e se qui vi mettete la urla di una di una stanza quando poi andate a cliccare nel nell'oggetto vi fa passare da stanza in stanza quindi questo eh ma poi ok questo si può fare però solo in spoke no allora questo è uno dei modi è uno dei modi no per andare se io volessi caricare una scena già fatta all'interno di apps e volessi passare da da una room all'altra questa possibilità di inserire il link potrei averla anche senza accedere a spoke si basta che tu ti fai esempio prendiamo una una stanza di adesso non ce l'ho sotto mano comunque hubs mozilla punto ah beh crea una stanza nuova qua ad esempio questa qui è la mia stanza no che è una stanza esistente che è questa la vedete tanto nella mia condivisione schermo si si ok la mia stanza qui facciamo share screen vedete che c'è questo link vado nella stanza ah perché qui mi ha fatto mi ha fatto uscire vediamo un po' di rientrarci l'aveva fatta vedere Daniele la settimana due settimane fa eh sì ma mi è sfuggito cioè non sono riuscita a seguire bene i passaggi allora ecco sono entrato qua no ecco entrando qua tu basta che gli scrivi qua nella chat l'indirizzo della stanza e poi fai create questa quindi lui cosa fa crea un pannellino dove c'è la foto della nuova stanza che tra l'altro che tra l'altro facendo così puoi fare il pin fai il pin e quindi rimane anche se esci e poi quando la gente va sopra basta che faccia open link e si sposta nell'altra stanza se volete provatela io adesso lo provo qua faccio open link quindi lui si è spostato nell'altra stanza quindi tu hai fatto una navigazione fra una stanza e l'altra era questo che chiedevi no? sì sì grazie non è proprio istantaneo nel senso che ti richiede di nuovo di fare tutto il cine per entrare per esempio questa è una stanzina dove ho messo un'immagine a 360 gradi e poi ho scelto una cosa questa è molto carina e poi per tornare indietro suppongo che basta tornare indietro qua e si torna indietro si dovrebbe poter tornare indietro no non lo fa e bisogna eventualmente fare un altro pannello uguale quindi i due sistemi sono o di metterlo direttamente in spoke e di però quando sei messo in spoke qual è lo svantaggio che è prefissato quindi non non lo puoi cambiare mentre invece facendolo con questo sistema che hai visto mettendolo nella chat lo puoi fare anche on the fly cioè sul momento puoi decidere di creare un link in un'altra stanza quindi puoi creare in sostanza dei mondi collegati sia fissi che variabili e ripeto ci vorrebbero veramente tante cose ad esempio giusto per dare uno sguardo architecture kit qui ci sono delle cose per fare case quindi volendo ad esempio a livello architetturale un insegnante potrebbe chiedere ai propri ragazzini o ragazzi insomma proprio di usare tutti gli strumenti magari facendogli vedere un esempio prima quindi creare prima i pavimenti e poi creare i muri creare le finestre queste sono delle cose simili a quelle che ci sono anche su su blender solo che qua sono un filo più facili da da inserire perché basta trascinare gli oggetti e questi si si costruiscono da soli insomma e poi dunque qui ci sono tutti i vari materiali insomma ripeto adesso questo che abbiamo fatto stasera è proprio solo un assaggino e mi aspetterei che se voi siete cioè vi va dato lo stimolo come al solito ma sicuramente qualcuno di voi potrebbe andare più avanti di quello che vi ho fatto vedere molto più avanti se è proprio solo l'inizio ok torniamo sul sulla chat qua ci sono un po' di sì ecco solo una cosa probabilmente chi non ha un account su mozilla avrà delle possibilità limitate quindi dovete verificare fate una prova prima prima di dire che non c'è bisogno di avere un account allora script qui no non c'è non c'è il concetto di script perché sono tutti molto preoccupati sul fatto allora lo script in senso stretto come si fa su open sim non c'è però visto che l'applicazione è open source volendo uno potrebbe anche costruire degli script basandosi su javascript però javascript è un linguaggio tra i più complici nonostante che sia apparentemente il più facile tra tutti è uno dei più difficili in realtà e io in particolare non lo so usare molto bene invece per quanto riguarda gli avatar credo che poi tra due settimane chiederò a qualcuno di voi che l'abbia già fatto di spiegarlo meglio quindi magari ci faremo un po' di condivisione nel senso che io ho visto che Eva ma anche Michelangelo o altri sono andati molto avanti e mi sembra che mi hanno anche scritto un tutorial a me non gli ho chiesto per fare gli avatar qua dentro non è che siano niente di speciale questi avatar se li avete visto sono abbastanza semplicini però insomma possono possono essere diciamo una cosa molto interessante tra l'altro in alcuni casi alcuni avatar sono anche molto realistici almeno per quanto riguarda il busto e la testa poi per fare il resto probabilmente è un pochino più complicato va bene c'è qualcun altro che vuole dire qualcosa o scrivere di Aru insomma siamo in tanti ok adesso qui dentro siamo in 12 e mi sembra che 12 li gestisca abbastanza bene no? cioè vi muovete sentite lag vedete cose particolari le animazioni in teoria le prende anche se non le ho non le ho ancora sperimentate con calma ma in teoria si quindi se qualcuno di voi vuole fare qualche prova di se vuole fare qualche prova con delle animazioni magari più semplici e poi scrive sul sito su facebook ecco Eva se l'hai già fatta puoi fare il puoi scrivere qualcosa no? su come si fa oppure darci anche il link alla tenete conto che tutti i formati riconosciuti da Mozilla Hubs è il GLTF o GLB mi sembra GLB è che è un formato diciamo open source che è abbastanza standard e quindi è molto molto interessante ed è molto compresso soprattutto quindi permette di fare tantissime cose e Blender permette di esportare il formato GLB e quasi tutti i programmi permettono di lavorare di lavorare con il formato GLB è un po' diverso da quello che si usa su OpenSIM perché su OpenSIM si usa il formato collada però il formato collada è molto pesante quindi è molto grosso quindi è preferibile quello poi per lo scripting tornando a Rossano che ho chiesto lo scripting io se tu o se voi conoscete qualche ragazzo che è bravo con javascript magari possiamo provare a fare anche qualche piccolo esperimento quindi di creare delle cose però a tuttora credo che forse è una strada molto in salita quindi forse è meglio se volete fare proprio degli script riconcentrarvi sul corso quello di Unity dove in realtà lì si scripta molto bene e con C Sharp e si può fare un po' di tutto ricordate che quel corso l'abbiamo sospeso soltanto ma lo dovrei riprendere non appena abbiamo finito insomma di spiegare ciao su Hub niente di probabile chiudo un po' di roba che chiudiamo a destra e manca ovviamente qua ok adesso dovrei aver chiuso tutto quasi quindi dovreste sentirmi dovreste sentirmi normalmente e io direi visto che ormai sono passati un'ora e venti insomma un'ora e quindici un'ora e venti io se siete d'accordo completerei la direi che abbiamo finito che abbiamo finito abbiamo iniziato ovviamente se vi è piaciuto comunque la cosa il spoke ripeto si possono fare molte molte cose bene allora buonanotte a tutti ci sentiamo sul coso non ho dato in questo corso esercizi compiti magari ne diamo solo uno poi finale giusto per ma comunque è una cosa molto tranquilla era il senso di questo corso quindi di nuovo ciao a tutti ciao a tutti